Essere una sedia o un tavolo? Hmm... E che cavolo c'ero quasi a quel bel, bel co... Oh mio Dio, voglio morire ora, Gesù Cristo che figuraccia! Ciao ragazzi, grazie per aver visto questo video. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto e non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati su tutti i video che farò uscire. Ancor più importante, seguitemi sui social come per esempio Instagram e Telegram. Spero di sì, che si centrino bene, chi lo sa. Mi raccomando, vi aspetto ad un prossimo video. Ciao!